Allora ragazzi, si, hanno hackerato il sito di Bitcoin Gold che è andato giù praticamente subito dopo la comunicazione dell'avvenuto fork e non so quali sono le motivazioni, non le hanno dette, quello che è successo è che sono stati fatti dei DDoS attack che sono degli attacchi denial of service, quindi sono state fatte milioni di richieste in un arco temporale bassissimo il sito non ha retto ed è crollato, leggendo su Twitter ho letto che i programmatori stanno lavorando sul ban degli IP dell'attacco che è stato fatto, quindi dovrebbero risolvere, credo che questo faccia capire un po' qual è la situazione di Bitcoin Gold e qual è l'accettazione di questo nuovo fork di Bitcoin e andremo a vedere come finirà per ora volevo solo aggiornarvi su quello che era successo velocemente e insomma di non preoccuparsi troppo hanno semplicemente buttato giù il sito internet, ma sarà interessante vedere quanto ci metteranno a ripristinarlo gli sviluppatori e soprattutto per vedere il codice della blockchain di Bitcoin Gold che ancora non è pubblico quindi serve che ci mostrino questo staremo a guardare ragazzi, per ora è tutto, era solo un aggiornamento velocissimo su quello che è successo ci vediamo presto, ciao a tutti e buon trading